Questa non è... questa non è... Collega Lapecchia! Collega Lapecchia! Oh, oh, aspetta, uome! Si, ma trovami la pratica, per favore! Eh si, tu l'apri, devi preparare i panini, devi fare un caffè! A me serve la pratica! Eh si, assolutamente! Lave dove sta? Chi è che ha messo le mani qua? Lave dove sta? Sta qua, laura, collega! Collega, vai in faccia, che cosa ti è successo? Te ne sapete, stamattina mi sono fatto male in bagno! Mi sei fatto male in bagno? Si, però, per fortuna, i sanitari stavano già sul posto! Si, ah! Che cosa scemo io? Ma ehi, muovendovi, vada fino a ora!